Lo so, lo so. Hanno violato patti solennemente giurati. Abbiamo dovuto cedere alla frode e alla forza. Cosa posso fare io ormai? Pretendono perfino che io paghi le tasse. Altezza, posso assicurarvi che non siete più solo. Le corti... Cosa vuoi qui? Battene! Cosa c'entri tu? Ah, niente. Volevo solo andare via. Beh, che cosa aspetti? Non vedi che ci sono delle persone? Non vedi che è della gente qui? Insomma, se ne vuoi andare? Carina, eh? E una modella? Ma che modella? Sono secoli che non dipingo più. Non vedi che non dipingo, non vedi che non dipingo più.